ciao a tutti il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo traforato che diciamo rappresenta un po delle foglie allora il motivo sul davanti si presenta in questo modo mentre sul dietro e così i ferri di ritorno o ferri pari le maglie vengono lavorate come si presentano ciò significa che sul rovescio andiamo a lavorare il rovescio sul diritto lavoriamo il diritto e i gettati vanno lavorati al rovescio allora il motivo non è un motivo complicato quindi potrebbero farlo anche dei principianti devono stare attente però ai gettati soprattutto sul rovescio del lavoro perché poi si potrebbero perdere delle maglie e bisogna saper lavorare due maglie insieme a diritto e le diminuzioni semplici allora il motivo è un multiplo di 12 quindi andiamo a montare sul ferro 12 12 12 12 più 1 più le 4 di vivagno che andranno a formare il bordino per quanto riguarda l'altezza invece il motivo si realizza in 24 ferri è un motivo che possiamo utilizzare per sbagliati progetti ad esempio copertine stole cardigan maglioncini estivi top magliette vestitini copricostume eccetera andiamo adesso a vedere insieme come si realizza ho montato sul ferro un totale di 41 maglie perché vado a fare tre motivi quindi 12 per 3 più 1 più 4 di vivagno cioè due per ogni lato che andranno a formare il bordino partiamo dal primo ferro iniziamo con un solo motivo di vivagno un rovescio vado adesso a ripetere il motivo centrale il vivagno lo trovate qui sopra in un link che vi lascio in modo tale da andare poi a vedere come si fa un gettato tre diritti 1 2 3 2 maglie insieme a diritto un rovescio una diminuzione semplice sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare lavoro a diritto la seconda maglia e a cavallo la prima sopra la seconda tre diritti un gettato un rovescio andiamo a ripetere questo motivo secondo ferro di divagno divagno un diritto 5 rovesci 1 2 3 4 5 un diritto 5 rovesci 1 2 3 4 5 andiamo a ripetere questo motivo chiudo il ferro con un diritto e il vivagno terzo ferro vivagno un rovescio vado a ripetere il motivo centrale un gettato 3 diritti 2 maglie insieme a diritto un rovescio una diminuzione semplice 3 diritti 3 diritti un gettato un rovescio andiamo a ripetere questo motivo quarto ferro vivagno un diritto 5 rovesci 1 2 3 4 5 un diritto 5 rovesci 1 2 3 4 5 ripetiamo questo motivo motivo chiudo il ferro con un diritto e il vivagno quinto ferro vivagno un rovescio vado a ripetere il motivo centrale un gettato 3 diritti 1 2 3 2 maglie insieme a diritto un rovescio una diminuzione semplice semplice 3 diritti un gettato un rovescio ripetiamo questo motivo sesto ferro vivagno un diritto 5 rovesci 1 2 3 4 5 e il vivagno 4 5 un diritto 5 rovescio 1 2 3 4 5 andiamo a ripetere questo motivo chiudo il ferro con un diritto e il vivagno settimo ferro vivagno un rovescio un rovescio vado a ripetere il motivo centrale una diminuzione semplice 3 diritti 1 2 3 un gettato un rovescio un gettato 3 diritti 1 2 3 2 maglie insieme a diritto 5 rovescio un rovescio un rovescio un rovescio un rovescio di piernù un rovescio un rovescio un rovescio un rovescio andiamo a ripetere di certo semplice un rovescio un po' 2, 3, 4, 5. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Nono ferro. Vivagno. Un rovescio. Una diminuzione semplice. Andiamo a ripetere il motivo centrale. Quindi due diritti. Un gettato, tre rovesci. Uno, due, tre. Un gettato, due diritti. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Andiamo a ripetere questo motivo. Decimo ferro. Vivagno. Un diritto. Quattro rovesci. Uno, due, tre, quattro. Tre diritti. Uno, due, tre. Quattro rovesci. Uno, due, tre, quattro. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Undicesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Vado a ripetere il motivo centrale. Una diminuzione semplice. Un diritto. Un gettato. Cinque rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un gettato. Un diritto. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Ripetiamo questo motivo. Dodicesimo ferro. Vivagno. Un diritto. Tre rovesci. Uno, due, tre. Cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tre rovesci. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto. E il vivagno. Tredicesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Vado a ripetere il motivo centrale. Diminuzione semplice. Tre diritti. Uno, due, tre. Un gettato. Un rovescio. Un gettato. Tre diritti. Uno, due, tre. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Ripetiamo questo motivo. Quattordicesimo ferro. Vivagno. Un diritto. Cinque rovesci. Uno, due, tre. Quattro, cinque. Un diritto. Cinque rovesci. Uno, due, tre. Quattro, cinque. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto. E il vivagno. Quindicesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Vado a ripetere il motivo centrale. Una diminuzione semplice. Tre diritti. Un gettato. Un rovescio. Un gettato. Tre diritti. Uno, due, tre. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Ripetiamo questo motivo. Sedicesimo ferro. Vivagno. Un diritto. Cinque rovesci. Uno, due, tre. Quattro, cinque. Un diritto. Cinque rovesci. Uno, due, tre. Quattro, cinque. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto. E il vivagno. Diciassettesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Vado a ripetere il motivo centrale. Diminuzione semplice. Tre diritti. Un gettato. Un rovescio. Un gettato. Tre diritti. Uno, due, tre. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Andiamo a ripetere questo motivo. Diciottesimo ferro. Vivagno. Un diritto. Cinque rovesci. Uno, due, tre. Quattro, cinque. Un diritto. Cinque rovesci. Uno, due, tre. Quattro, cinque. Ripetiamo questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto. e il vivagno. Diciannovesimo ferro. Vivagno. Un rovescio. Vado a ripetere il motivo centrale. Un gettato. Tre diritti. Uno, due, tre. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Una diminuzione semplice. Un rovescio. Tre diritti. Un gettato. Un rovescio. Un rovescio. Un rovescio. Un rovescio. Un rovescio. Un rovescio. 5 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno, ventunesimo ferro, vivagno, un rovescio, vado a ripetere il motivo centrale, un rovescio, un gettato, due diritti, due maglie insieme a diritto, un rovescio, una diminuzione semplice, due diritti, un gettato, due rovesci, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo, 22esimo ferro, vivagno, due diritti, 4 rovesci, un diritto, 4 rovesci, un diritto. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Ventitresimo ferro, vivagno, un rovescio, vado a ripetere le maglie centrali, due rovesci, un gettato, un diritto, due maglie insieme a diritto, un rovescio, una diminuzione semplice, un diritto, un gettato, tre rovesci, rovesci, uno, due, tre. Ripetiamo questo motivo, ventiquattresimo e ultimo ferro, vivagno, tre diritti, uno, due, tre. Tre rovesci, uno, due, tre. Un diritto, tre rovesci, due diritti. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Come possiamo vedere il motivo è praticamente terminato. Per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero 1 al numero 24. Il motivo e il video sono terminati e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!